salpa la salpa 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 in dialetto genovese si pesca nelle acque liguri dalla primavera all'autunno i migliori esemplari in ottobre e novembre per lo più con reti da posta nei pezzatori più comuni vanno dai 15 ai 25 centimetri anche se si possono catturare salpe di mezzo metro della famiglia degli sparidi si civa quasi esclusivamente di vegetali anche se i piccoli integrano la dieta con crostacei platonici preferisce i fondali ricchi di pose idonea e non soffera quasi mai 20 metri di profondità a corpo ovale bocca piccola con labbra spesse di colore rigido verdastro con riflessi argentati e lunghi fianchi con una dozzina di strisce orizzontali dorate visibili anche dopo la morte note in franchi numerosi spingendosi specialmente in giovane età molto vicina alla riva le carni delicate ricche di dischi richiedono pazienza nella pulizia see ya see ya see ya Grazie.